Siamo qui a Piazza Venezia dove già tanti turisti stanno fotografando questo meraviglioso tripudio di colori. Abbiamo ripristinato questo manto erboso qui a Piazza Venezia, ma soprattutto abbiamo riportato i ciclamini. Abbiamo portato l'asparagina con l'asparagina. I ciclamini che sono appunto bianchi e rossi, abbiamo riportato il senso della nostra bandiera, del nostro Stato e della comunità di appartenenza a questo straordinario paese la cui identità si percepisce in questo luogo che ora è diventato bellissimo grazie ai ciclamini e alla biodiversità di Roma che qui viene celebrata.